Aveva rubato un furgone nel pomeriggio dello scorso 8 gennaio per poi utilizzarlo nella notte insieme ad altri due malviventi per la classica spaccata mettendo a segno il furto di otto biciclette in una rivendita di giarre portando via un bottino di 34 mila euro. I carabinieri della stazione di giarre hanno arrestato un 39enne del luogo in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catania per il reato di furto aggravato in concorso. L'indagato aveva pianificato tutto nei minimi particolari prima il furto di un furgone Iveco Daily di proprietà di una ditta di prodotti alimentari nel pomeriggio dell'8 gennaio scorso lungo viale delle province a Giarre mentre l'autista era intento a scaricare la merce. Poi l'utilizzo del mezzo rubato la stessa notte per infrangere la vetrina di una rivendita di bici in piazza Ungheria. Il 39enne avvolto scoperto intorno alle 3.30 ed altri due complici che invece erano avvolto coperto dopo la classica spaccata sono riuscite a rubare 8 bici per un valore di circa 34 mila euro. Fondamentali per ricostruire la dinamica dei furti le denunce del titolare dell'esercizio commerciale dell'autista del furgone e le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza attive nei luoghi dei furti. Ad inchiodare il 39enne lo scorrere delle immagini che lo vedono protagonista sia nel furto dell'Iveco che in occasione della spaccata dove perpetra il reato sempre avvolto scoperto. Condizione che consentirà ai carabinieri di identificarlo e fornire al magistrato della procura della Repubblica Etnea titolare delle indagini un quadro probatorio completo che ne ha consentito l'arresto. I due complici invece sono in fase di identificazione. L'uomo assolte le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Messina Gazzi. Grazie a tutti.